Fuori luogo, inventarsi italiani nel mondo, racconta le storie di 19 italiani che sono partiti dal nostro paese per le ragioni più svariate. Alcuni avevano un sogno molto preciso nel cassetto da realizzare che in Italia avevano già in qualche modo provato non essere possibile. Altri sono partiti semplicemente perché desiderosi d'avventura o perché scoraggiati magari da scarse opportunità all'interno dell'Italia. Il cuore di fuori luogo nasce con l'altro lato, un programma radiofonico che ho condotto su Radio 2 per cinque anni, un programma dove raccontavamo storie. Tante di queste storie avevano la loro concretizzazione all'estero, oltre confine. Andare oltre confine è un po' un ventaglio delle possibilità, è quello che abbiamo voluto raccontare anche con il libro. Là puoi fare qualcosa che qui in Italia non potevi fare. Tra le tante storie che abbiamo raccontato, all'altro lato ne abbiamo scelte alcune, quelle che ci sembravano più belle, più significative, quelle dove c'era un bel percorso anche in questo andare oltre confine. Abbiamo quindi selezionato 19 storie, abbiamo intervistato nuovamente i protagonisti, anche perché in quei mesi o in quegli anni in alcuni casi c'erano state delle belle evoluzioni. E così da questi racconti, da queste chiacchierate, è nato il libro. Sono percorsi estremamente variegati e differenti che hanno in comune la voglia di non sentirsi più fuori luogo. Di non sentirsi più fuori luogo in Italia per le ragioni più differenti. C'è chi si sente fuori luogo perché è troppo giovane, chi si sente fuori luogo perché è troppo vecchio, chi si sente fuori luogo perché è troppo preparato e chi perché lo è troppo poco. Sono tutte persone che si sono rimboccate le maniche, non si sono lamentate e sono partite andando a raggiungere la propria fantasia, la propria visione, il proprio sogno. Talenti, artisti o semplici sognatori, questi un po' sono i protagonisti del nostro libro. Persone che avevano un progetto e questo progetto sono riusciti a portarlo a termine, però per fare questo sono dovuti andare all'estero. Una storia che mi piace per esempio è quella di Daniele. Daniele è un architetto, studia a Roma, durante il periodo dell'università fa l'Erasmus e quindi scopre la Germania, si trova bene e ha i confini col Belgio, quindi nel nord della Germania. Gli piace essere italiano là perché le cose che l'avano stancato un po' del nostro paese là non le ritrova, ma trova solo il bello, quindi la sua creatività, il suo calore, la sua facilità di socializzazione. Lui è un architetto e scopre che c'è una nicchia di mercato, che è quella delle case sugli alberi, che detta così fa abbastanza sorridere, ma stanno nascendo tanti progetti di questo tipo nel mondo, case dove ci si può vivere, case dove fare per esempio il proprio studio, o ci sono anche agriturismo, ci sono già degli hotel sugli alberi. Lui tenta di aprire uno studio in Italia, però quasi li ridono dietro, viene deriso, scopre invece che questa nicchia, questo mercato, può avere uno sviluppo a molta più attenzione in Germania. Così si trasferisce là, in questa città che aveva frequentato durante l'università, inizia a frequentare anche come docente la facoltà di architettura, e lì coinvolgendo un paio di colleghi, apre questo studio, che diventa più di un progetto, più di un sogno, perché questo studio diventa subito operativo, realizzano subito le prime case, grazie anche a un'associazione culturale che lui riesce a mettere in piedi, quindi progetti sulla carta folli, però questi baroni rampanti esistono per davvero, e lui riesce a dar casa a queste persone che sognano di vivere a pochi metri da terra. Ci sono storie che in Italia non avrebbero potuto realizzarsi, una di queste è la storia di Licia, Licia Baldi, una ragazza milanese che ha seguito il marito negli Stati Uniti, un ricercatore biologo che è migrato in America per lavorare in uno dei tanti laboratori di alto livello degli Stati Uniti. Licia ha seguito il marito e si è avvicinata poco a poco negli Stati Uniti alla chiesa evangelica, che in America è chiesa episcopale, e a poco a poco si è scoperta dentro di sé, prima attraverso la frequentazione di questa chiesa, poi tramite alcune attività di volontariato, si è scoperta dentro di sé la vocazione per il sacerdozio. Ha fatto alcuni anni di seminario e oggi è diventata un prete, un prete evangelico, un prete episcopale. Insomma, è inutile dire che è una storia impensabile in Italia, dove la gerarchia cristiana cattolica non consente alle donne il sacerdozio. Non solo i giovani, non solo i giovanissimi fanno le valigie, fanno un biglietto di sola andata per concretizzare i propri sogni. Tra le storie c'è anche quella di un pensionato, un pensionato milanese che a un certo punto si stanca della routine metropolitana e dice ok, sono in pensione, ho una mia vecchia aspirazione, nel cassetto perché non tentare di portarla a termine. La sua passione è lo studio del ghiaccio. scopre che esiste una università, l'unica al mondo, dove appunto il ghiaccio è la disciplina principale e decide di partire. E parte per l'isola Svalbard, quindi stiamo parlando dell'estremo nord europeo, un'isola anche con pochi abitanti, dove lui si iscrive al primo anno di università. si sposta, vive là, chiede alla moglie se desidera raggiungere, o la moglie dice anche no, insomma è un po' scomoda la vita che tu fai. Diventa un po' una sorta di studente fuori sede, perché fa la vita universitaria a diverse migliaia di chilometri da casa. oggi sta portando avanti gli studi, si è laureato, non solo, si sta specializzando, collabora con l'università e ha trovato là il suo habitat ideale. Questa cosa che covava da anni, una volta raggiunta la pensione, è diventato uno dei motivi della sua vita. Spesso ci chiedono se i protagonisti del nostro libro sono cervelli in fuga e non lo sono nel senso classico che si dà questa definizione, in quanto non sono scienziati, non sono biologi, ricercatori, chimici, informatici, ingegneri, sono dei creativi, sono dei visionari, delle persone con un talento nell'arte magari che hanno reinventato se stesse a partire dalla propria capacità di sognare. Non sono storie eccezionali, sono storie curiose, sì, sono storie divergenti, però sono storie probabili, sono storie del tuo vicino di casa, sono storie che potrebbero essere anche le storie dei lettori. Ritorno sul tema della possibilità, si può fare, ci sono sogni che si possono realizzare, bisogna darsi da fare, a volte il darsi da fare è in questo caso uscire dai confini di questa Italia, un po' col freno a mano tirato. La cosa che mi è piaciuta è che filo comune, filo conduttore di questi racconti è che queste persone all'estero hanno trovato una caratteristica, hanno trovato qualcuno che li ascoltava. forse anche la cosa triste di un'Italia dove hai talento, hai idee, e la prima cosa che non trovi è proprio questa, a chi portare queste idee, a chi proporre questo talento, perché a volte si ha paura della meritocrazia e quindi preferiscono proprio non ascoltarti. All'estero invece hanno trovato questo ascolto, da questo ascolto un interesse, un interesse contagioso, sono riuscita ad animare delle risorse, a muovere persone, a muovere anche finanziamenti, a realizzare questi progetti.